...per Duran che stacca dalla linea, impossibile da fermare, Arasai Duran... ...la Mechanic System Oderso vince la Coppa Italia Femminile 2021 alla Palasport di Sanso Maggiore Terme, lo fa battendo, 30-20 la Yogi Salerno... ...palla larga per Radovcic, la volante Lupo, spettacolo su questa azione bellissima del conversano da Radovcic in elevazione, palla messa col contagiri... ...la dove Lupo arriva, si coordina e la spinge e porta, replay, Lupo dentro il pallone, si gira e rete meravigliosa questa di Shorshi, mamma mia, che gol! Dopo dieci anni il conversano vince la Coppa Italia, Coppa Italia 2021 al conversano, il conversano e la Mechanic System Oderso vincono la Coppa Italia 2021... ...maschile e femminile di pallamano al Palasport di Sanso Maggiore Terme, grande gioia per entrambe le squadre, grande soddisfazione e degna conclusione per tre giorni di pallamano ad alto tasso di spettacolarità... Amici sportivi, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania, saluto a Matteo Aldamonte, abbiamo ancora negli occhi, nelle orecchie, insomma, nel cuore... ...le grandi sensazioni, le grandi suggestioni che ci ha regalato la Final di Coppa Italia, sia al femminile che al maschile, Salsa Maggiore Terme, Mechanic System Oderso e Accademia Conversano... ...hanno conquistato con pieno merito il titolo nazionale, tre giorni che sicuramente Matteo resterà per molto tempo, ne ricordi di tutti, anche perché giunta in un momento particolare... ...non soltanto della vita sportiva della FIGIH ma in generale dell'intero paese. In un momento enormemente difficile, siamo tutti come Movimento riusciti a fare una cosa, a mio avviso, enormemente bella, per come l'ho vissuta, per come da un punto di vista personale, avendo la fortuna di essere tra i pochi che era lì... ...un contesto veramente professionale, direi europeo, per come era stato preparato l'impianto, per come si è arrivati alla manifestazione... ...abbiamo visto delle belle partite, delle partite molto equilibrate, sia nel maschile sia nel femminile, c'è stato spettacolo... ...quindi credo, ripeto, che in un momento molto difficile la federazione e il Movimento, i club, siano riusciti a fare qualcosa di veramente bello. E allora, onda evitare il rischio, sempre ragguato, di parlarci un po' addosso, visto che siamo direttamente interessati... ...lo siamo stati direttamente interessati nell'organizzazione dell'evento, chiediamo una voce terza, l'ausilio, il supporto di un terzo spettatore... ...è il caso di dire, delle finalists di Coppa Italia, perché con il suo team, con la sua squadra, non ha centrato la qualificazione alla finalette maschile. Mi riferisco a Giacinto De Santis, tecnico dell'Affondi, buonasera Giacinto, come va intanto? Buonasera a voi, buonasera a tutti. Bene, bene dai. Ecco, confermi, confermi o, insomma, muovi qualche appunto? Puoi farlo liberamente, non c'è censura nella nostra trasmissione? No, devo dire che è stato uno spettacolo bellissimo, soprattutto in questo momento, dare spettacolo, tre giorni di palla a mano maschile e femminile, ad altissimo livello, è stato qualcosa di emozionante. Soprattutto in questo periodo che, come sappiamo, per la pandemia anche altri sport non giocano, non fanno queste cose, è stato creato un grande evento, complimenti alla federazione e a tutte le squadre per lo spettacolo che hanno dato. E allora, poi ci addentriamo un punto nella disamina tecnica della manifestazione, direi di partire con la Coppa Italia assegnata all'Accademia Conversano, un successo che dall'albo d'oro e soprattutto dalla bacheca dei successi del team pugliese mancava da tantissimo tempo. Da dieci anni esatti, lui 2011 e c'erano in campo sia Tarafino che l'allenatore e sia Radovcic che aveva vinto quel titolo. Per entrambi è, tra l'altro, un arricchimento ulteriore del loro palmarès. Pensiamo che Tarafino vince la dodicesima Coppa Italia tra giocatore e allenatore, Radovcic la decima, quindi credo che lo raggiungerà presto, secondo me, se continua così. Per Conversano anche è qualcosa di storico perché raggiunge Trieste nel totale delle Coppe Italia vinte, sono sei in tutto al maschile e raggiunge anche Sassari e Salerno nel femminile. Assolutamente, quindi il top della palla a mano italiana in quanto a titoli conquistati, va detto e precisato che intanto il titolo conquistato dal commissario assume grande valore anche perché ha dovuto superare in finale un grande avversario quale si è rivelato il Cassano Magnaco. Che credo abbia incarnato al massimo il senso di questa manifestazione perché arrivava al torneo da ottava in classifica nel campionato di Serie A Beretta e invece ha trovato nella Coppa Italia il modo per riscattarsi, per ridare nuova vitalità ad una stagione che mi avviso in campionato è un po' così così a questo punto per il proseguo e invece è riuscito a valorizzare i suoi giovani, a eliminare due super squadre come Siena e Cassano e Raymond Sassari e non era assolutamente né scontato né facile. Tra le favorite poi alla vigilia, peraltro. Entrambe, ovviamente, quindi merito a college. Allora, andiamo in servizio. Vincere è dolce, bellissimo. Scrivere la storia però lo è ancora di più e il conversano ci è riuscito a salzo maggiore terme dove domenica scorsa la squadra pugliesi ha conquistato la sesta Coppa Italia della sua storia, un traguardo che solo la nobile Trieste e nel femminile Salerno e Sassari erano riuscite a tagliare in passato. La squadra del tecnico Alessandro Tarafino vince così il suo secondo titolo stagionale dopo la Supercoppa del dicembre scorso, ritrovando emozioni e sensazioni che mancavano da dieci anni dal tricolore vinto nel 2011. All'epoca sia Tarafino che Devis Radovcic erano in campo. Oggi Mr. Pallamano segue la squadra dalla panchina e mette nella sua personale bacheca il trofeo per la dodicesima volta, mentre per l'ala sinistra il conto dei titoli si fa a dir poco impressionante. Sono 25 tra Scudetto, Supercoppa e la Coppa Italia che Radovcic ha conquistato ben dieci volte, roba da matti. Ma non è ovviamente solo il loro conversano, è anche il conversano di Pasqualino di Giandomenico sempre più protagonista tra i pali, o il conversano dei veterani Giannocchero e Lupo del talento di Ignazio De Giorgio e anche un po' delle bordate di Jacob Nelson. La Coppa Italia torna in Puglia per la undicesima volta, tre anni dopo l'ultimo titolo di una corregionale da Junior Fasano. Merito anche agli avversari, sia chiaro, pure il Cassano Magnago, sempre parlando di geografia della Pallamano, ha fatto un po' di storia. La sua, giocando la prima finale di sempre, è quella della Lombardia che mai in 36 anni era arrivata all'ultimo atto di una Coppa Italia maschile. La testa va al campionato, dove la squadra di College è forse un po' troppo indietro per sognare, ma dove invece quella di Tarafino domina, perché la cosa che più impressiona di questo conversano è la costanza. Vincitrice della Supercoppa, trionfatrice in Coppa Italia, capolista in Serie A Beretta. I punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, Sassari, al momento sono cinque, tanti, ma in campionato, per giunta senza playoff, i dentro fuori contano meno ed il cammino è maledettamente lungo. Per riparlarne, allora, bisognerà aspettare 13 giornate e almeno tre mesi di battaglie e inseguimenti senza sosta. E allora, Giacito, tuo commento alla final maschile e in modo particolare all'atto finale, quella che ha visto conversano preparare su Cassano Magnaco. Vittoria con largo merito del conversano, anche se il Cassano ha reso durissima la vita alla formazione di Tarafino, fino alla fine in pratica. Sì, probabilmente il Cassano è stata la vincice molare della Coppa, ha fatto una grandissima edizione, probabilmente è arrivata un po' stanca all'ultima giornata, dove negli ultimi 20 minuti ha pagato un pochino, ma il conversano poi l'ha vinta con grande merito, una squadra costante, costruita per vincere. Abbiamo visto le quarti e semifinale come l'ha giocata, la finale poi è una logica conseguenza, insomma. Merito al conversano, ma grandissimo merito al Cassano che ha fatto una delle grandi finals. Giacinto, per quanto riguarda invece le deluse di queste finals di Coppa Italia, cioè io metto in cima e in fila prima Siena, che è uscita ai quarti contro un grande Cassano, l'hai detto, e poi Sassari, che erano favorite, era la semifinale che tutti ci aspettavamo. Sì, sì, sicuramente, nessuno si aspettava di vedere Siena perdere a Cassano e l'ha fatto negli ultimi minuti di gioco, nell'ultimo attacco gestito male, però una partita che poteva ampiamente vincere dall'inizio. Il Sassari, sì, poteva far di più, però ho visto la partita con il Cassano, è stato molto bravo il Cassano a giocare tatticamente. È lì che l'ha vinta e l'ha vinta con pieno merito. Loro le grandi deluse, ma io direi anche Bolzano. Io ho incontrato Bolzano qualche settimana prima delle finals e con Michele, con Scatar, mi ha fatto una grande impressione. Anche se il Pressano è una grandissima squadra, l'ha dimostrato poi battendo anche il Sassari nella finalina, mi aspettavo qualcosa di più anche dal Bolzano. Assolutamente, ricordiamo Bolzano che era squadra detentrice del titolo, avendolo conquistato l'anno passato a Siena. Devo dire che però in qualche modo, a differenza di Siena e Sassari, che in campionato stanno tenendo tutto sommato un ritmo abbastanza regolare. A proposito, novità a Sass, dove abbiamo registrato nella giornata di ieri le dimissioni di coach Passino, a quale auguriamo le migliori fortune, ovviamente. Il Bolzano ha confermato, se vogliamo, a Matteo, anche in Coppa Italia, di essere molto altalenante nel rendimento. Sì, in una stagione no. Oserei dire, in un momento, non lo so, forse di ricambio, è difficile usare questa parola poi, no? Perché comunque è difficile parlare di ricambio quando in squadra hai Turkovic, che poi in nazionale è un trascinatore, Sonnerer che è un infallibile cecchino, Hermones che è un signor portiere, però è in un momento scatar. Però è in un momento... è in una stagione no, sicuramente. Una stagione sì, invece, per coach Tarafino, che dopo aver raccolto tantissime vittorie da giocatore, Scudetti, Coppa Italia e Supercoppa, comincia, insomma, a raccogliere trionfi e successi anche da allenatore. Ricordiamo la Supercoppa, conquistata poco tempo fa a Chiedi, manco a farla apposta proprio contro il Bolzano, alla Supercoppa. Ora si aggiunge alla Coppa Italia, ascoltiamo Tarafino. Sì, tanta fatica, è naturale che sia così, una partita di finale così combattuta, tutti volevamo, ci tenevamo molto, si vedeva, eravamo un po' contratti anche all'inizio della partita, ci siamo un po' sciolti, però sentivamo un po' il peso di dover vincere, non lo so, come se dovessimo vincere a tutti i costi, invece devono stare solo tranquilli a giocare. Comunque è andata bene, sono stati grandi perché veramente hanno lottato con il cuore fino all'ultimo e sono molto felice e orgoglioso. Fin qui stagione straordinaria per il tuo conversano, avete vinto il Supercoppa, avete bissato il successo ottenendo questa Coppa Italia che mancava da tantissimo tempo, dalla bacheca del club pugliese, primi in campionato. Sì, questi ragazzi veramente stanno facendo un'annata straordinaria, stanno lavorando benissimo, stiamo lavorando alla grande da agosto, hanno una voglia, una disponibilità anche nei miei confronti, ottima, sono un gruppo, sono come fratelli e quindi questo non fa che aiutare anche in campo. A chi dedichi questa vittoria? A tutti quanti noi, alla squadra per i sacrifici che facciamo, al Presidente, a tutta la società, a tutti i miei collaboratori che sono veramente stati fenomenali. Giacinto, certo che se Mr. Pallamano inizia a fare quello che faceva da giocatore anche in panchina è complicata per tutti da qua in avanti. Sì, si ha fatto veramente bene, sta costruendo da qualche anno quello che poi si sta vedendo adesso e complimenti. Sta costruendo però, cambiando anche molto, cioè perché diciamo che non c'è dal punto di vista dell'organico una continuità nel discorso di Conversano, perché insomma quest'anno in pratica hanno rifatto la squadra in Puglia. Sì, ma la cultura deriva dal lavoro anche della società, la società che poi dà un imprinting alla squadra, anche se quest'anno ha cambiato molto, Di Gian Domenico è passato a fare il ruolo del primo e probabilmente lo meritava anche negli anni scorsi, visto il rendimento che sta avendo quest'anno. giocatori nuovi, è rimasto Giannocco, è rimasto Lupo, il cuore forte di Conversano è rimasto, ecco questo è poi l'importante per avere l'anima vincente. Assolutamente, sì, a proposito di tradizione, voltiamo pagina, occupiamoci di quello che è successo in ambito femminile, grande tradizione nella finale tra Iomis Alerno e Mechanics System o Derso che spesso in questi ultimi anni si sono affrontate. Questa volta però è stata l'Oderso ad alzare la Coppa e compiere Omeri. Era la terza serie, chiamiamola così, di finale tra queste due squadre dopo Supercoppa e campionato, non era mai successo in Coppa Italia e sì, c'è stata sicuramente da registrare la numerosa serie di defezioni che hanno falcidiato un po' Salerno che è arrivata senza, soprattutto Dallacosta e Gomez che sono due giocatrici secondo me imprescindibili, però l'Oderso ha sfruttato l'occasione perché poi quando si arriva lì bisogna vincere e Salerno credo fosse affaticata anche dalla semifinale stoica che aveva giocato il giorno prima contro Erice, invece Oderso è riuscita a rimanere quadrata, compatta, lucida, soprattutto per merito di una che la Coppa Italia l'aveva già vinta, sapeva già come si fa che Arasai Duna che ha segnato 14 reti, 8 soltanto nel primo tempo. Vediamo com'è andata. Ci sono occasioni da non perdere, giornate in cui non fallire ad ogni costo, la Mechanic System Oderso Domenica sapeva di poter vivere uno di quei giorni, un appuntamento con l'Albodoro e con le proprie ambizioni, un appuntamento centrato perché le giallonere o pitergine hanno vinto la Coppa Italia di Salzo Maggiore Terme, primo trofeo di sempre nella storia del club trevigiano, Costretta al passaggio di consegne, la Iomi Salerno è arrivata alla Final Six da campione in carica, è vero, ma decimata dal Covid-19, assenti le titolari Dalla Costa, Gomez, Lauretti Matos e Casale. Le campane in finale reggono per un tempo pagando anche e soprattutto la stoica prestazione in semifinale contro Erice. Per un tempo tiene Salerno e per un tempo Oderso accusa un po' di tensione. serve chissà già come si fa a vincerla questa Coppa Italia per sciogliere timori e paure. Serve Arasai Duran, la cubana è stratosferica, 14 reti, 8 solo nella prima mezz'ora, per raccaricarsi sulle spalle la squadra e con essa tutte le paure di un organico che aveva nella mente le due sconfitte già rimediate sempre in finale contro Salerno, campionato e supercoppa, e che scrive il suo nome nell'Albodoro della palla a mano italiana femminile a tre anni dal suo approdo nel massimo campionato. Per la seconda volta nella storia della Coppa Italia femminile una squadra veneta sale sul gradino più alto del podio. Accade 14 anni dopo il successo di Dossobuono. E Oderso adesso sogna di raggiungere le Veronesi anche in un altro record, quello per lo scudetto. Le Opitergine partono dal secondo posto alle spalle, manco a dirlo, di Salerno. Insomma, la Final Six, giurateci, è stata soltanto il primo atto di una sfida destinata a durare almeno fino ai play-off. Giacinto, nella femminile invece finale praticamente senza storia, soprattutto nel secondo tempo. Primo tempo tutto sommato in equilibrio, poi alla lunga, alla distanza, Oderso ha avuto la meglio. Sì, peccato. Peccato per queste defezioni. Poteva essere una finale alla stessa altezza di quella maschile. Però abbiamo vissuto belle semifinali, dei quarti esaltanti con delle sorprese. Vedi Mestrino-Bressanone. Ed è stata anche lì una bella manifestazione dove, devo dire, Oderso con pieno merito ha vinto la Coppa. Però peccato per queste defezioni perché Salerno poteva fare la sua. squadra giovane, un po' di cambiamento anche Salerno, però c'era margine per fare meglio con le ragazze che purtroppo sono rimaste a casa. Ascolta, sì, ma d'altronde, Matteo, questa è una stagione particolarmente complicata. Poi, a differenza del campionato, dove è possibile, in presenza di un numero cospicuo di positività, di rinviare le partite, la Coppa Italia era un atto unico, non si poteva rinviare l'appuntamento, al massimo si sarebbe potuto registrare una defezione, come è avvenuto ad esempio nel maschile col Fasano. Però a differenza del Fasano, Salerno aveva avuto le positività una settimana prima, quindi ha avuto la possibilità comunque di mettere in campo una squadra, 12 persone, è chiaro, in campionato forse, insomma, una situazione del genere traslata in campionato si sarebbe normalmente rinviata. Però credo che sia stato giusto, no? Perché, insomma, il fatto che Salerno abbia comunque partecipato, pur in formazione di maneggiata, ha dato comunque onore anche a chi ha vinto poi il titolo finale. Anche perché non ci dimentichiamo che è arrivata in finale, quindi poteva uscire già in finale. E invece ha indubbiamente, non solo onorato, ha giocato la sua manifestazione. Poi è chiaro, quando arrivi con una squadra, io non parlo solo di qualità, anche proprio in termini di fiato, dopo aver giocato una battaglia in semifinale, è arrivata dopo un tempo di finale stanca. Assolutamente sì. Ascoltiamo, coach Cavallaro, che insomma, a marge di una carriera, insomma, anche abbastanza lunga, ha finalmente raccolto un meritatissimo premio, un meritatissimo trofeo, la Coppa Italia. Ascoltiamo. Finalmente, perché queste ragazze solo meritano un grande gruppo, siamo riusciti a organizzare bene la partita, a rimanere calme, concentrate. Sapevamo di incontrare una corazzata, perché Salerno è una corazzata, anche con delle assenze, pur una squadra fortissima, abituata a giocare queste partite, le finali, da sempre giocafinali. Sapevamo che era una partita difficile. Quando abbiamo potuto stiamo riusciti ad alzare il ritmo e lì abbiamo fatto un break che le ragazze di Salerno non sono più riuscite a recuperare. È un grande lodo delle mie ragazze. Ecco, coach, era pesante la posta in palio, perché la Mechanic System aveva l'opportunità di cogliere il suo primo grande successo dopo tante stagioni coronate da ottime prestazioni, ma mancando sempre l'atto finale. Un grande carico di pressione, anche perché erano quasi obbligati a vincere, proprio per le ragioni che sottolineavi tu le tante assenze di Salerno. Diciamo di sì, dice bene. Veniamo da un periodo difficile. L'abbiamo superato veramente con grande capacità di sacrificio. Sì, eravamo obbligati. La pressione era tantissima, era alta, ma siamo riusciti a rimanere, diciamo, nella nostra bolla concentrata. Hai visto un po' la tua Ramona Manolovic, giocatrice, ricordiamo, cresciuta proprio a fondi, Giacento. Sì, sì, il cuore va lì. Mi dispiace, ma avrà modo di vincere parecchio. Ramona sta diventando una grande giocatrice, sarà presso uno dei top player, anzi, già è un top player del campionato e quindi avrà modo di rifarsi. Ha raccolto davvero molti consensi, no, Manolovic? Insomma, tra gli addetti a lavori presenti... Beh, diciamo solo che era candidata tra le migliori giocatrici italiane, non giovani, assolute. Le tre le hanno decise gli allenatori, quindi questo vuol dire che già gode di grande stima come top player, appunto, non come una rivelazione. E allora, i numeri della Coppa Italia, perché, insomma, Giacento era tra coloro in quali, non avevo dubbi, insomma, non ha perso, credo neanche una partita, a Giacento, no? Cioè, le hai viste tutte, 14 le partite, no? Qualcosa sì, qualche replica. Quella delle 10 del mattino, dai, avrai perso quella delle 10 del mattino. secondo me la finale di consolazione maschile l'ha vista. Sì, quella l'ho vista. Hai visto? Vediamoli, vediamoli, vediamo. Allora, vediamo quali sono stati i numeri, numeri importanti, no, Matteo, che hanno, ad adiuvandum, sancito, successo della manifestazione. Sì, cresce sempre di più, di anno in anno, davvero il seguito, soprattutto, del live streaming che è passato attraverso la piattaforma Eleven Sports, attraverso i canali ufficiali della Federazione Italiana di Gioca Endwall, attraverso il sito ufficiale, perché ormai da anni, questa è diventata una tradizione, c'è il sito ufficiale della manifestazione, 73 mila, circa, qualcosina in più, visualizzazioni, sia dei contenuti più lunghi, come il live streaming delle partite, sia degli highlights che sono stati confezionati dopo le singole partite, in più ci sono le circa 16 mila, qualcosina in più, spettatori che, complessivamente, hanno seguito le due finali su Sky Sport, domenica pomeriggio, su Canale 204, su Sky Sport Arena, 39 mila, tra visualizzazioni, interazioni, sui canali ufficiali, sui social media della Federazione, insomma, il seguito è veramente importante e conferma il fatto che sia la Coppa Italia a livello di club, sia poi quando c'è la nazionale all'attivo e in campo, il movimento risponde sempre, veramente in maniera importante. Sono numeri in crescita e anche che testimoniano, no? Già, ho detto che la volontà ferma, decisa, della Federazione e dei club, soprattutto di Serie A Beretta, di dare ampia visibilità al nostro sport, alla fine paga e premia soprattutto il lavoro di tutti. Sì, c'è fame, c'è fame, c'è volontà, si vuole emergere, vogliamo vedere l'Italia, l'Italia, delle squadre italiane nelle Coppe, negli eventi come i mondiali in Egitto, negli europei, ecco, perciò risponde quando ci sono questi eventi. Bene, allora, siamo praticamente quasi in chiusura della prima parte, però non posso non farti una domanda, Jacinto, su quello che è, insomma, il prossimo impegno che attende il tuo Fondi, che, insomma, ospiterà Raimond Sassari, insomma, che cambia la guida tecnica ma non muta, immagino, quelle che sono le sue ambizioni. È un ostacolo severo sulla strada che deve portare il Fondi verso la salvezza? Sì, è una grande squadra costruita per vincere, ha perso un po' di terreno in campionato ma è a tiro del Commersano, purtroppo in Coppa può succedere, una partita unica può succedere di giocare male una partita e fallire ma rimane una grande squadra noi dal canto nostro dobbiamo lottare per mettere in campo tutto quello che abbiamo per cercare di far nostra la posta perché noi ne abbiamo bisogno anche se viene il Sassari che è una squadra corazzata. Bene, grazie Jacinto De Santis in bocca al lupo al tuo Fondi parleremo del massimo campionato maschile e femminile subito dopo alcuni comunicati commerciali. Bene, lo anticipavamo già con Jacinto De Santis ritorna il massimo campionato Serie A Beretta maschile e femminile vediamo insieme cosa ci attende nel prossimo fine settimana andiamo in grafica e facciamo il punto purtroppo ci sono due partite rinviate a causa di casi di accertata positività sono Albatro Fasano che ha già come sappiamo rinunciato alla Coppa Italia Siena Trieste per la quarantena dei giocatori a proposito di Fasano in bocca al lupo all'allenatore Ciccio Ancona Ciccio Ancona assolutamente lui tra tutti detto di Fondi contro Raimon Sassari completano il programma Santrali Cingoli Cassano Magniago Sparereppan Bolzano derby d'Alto Adige Bressanone Pressano partita interessante e Salumi Ficcio Riva Molteno contro Alperia Merano la classifica che vede il conversano che fin qui assoluto dominatore della stagione Supercoppa Coppa Italia e ora un primo anche in campionato che deve guardarsi proprio intanto stiamo vedendo la classifica deve guardarsi dal Sassari Matteo però insomma anche Siena lo stesso Bolzano se vogliamo che deve recuperare un po' di partite il Pressano non è ancora un discorso chiuso quello relativo al massimo campionato per quanto il conversano anche in virtù del rendimento che sta avendo in questo momento è il favorito sicuramente non è un discorso chiuso certo è che se dietro continuano a togliersi i punti e il conversano invece continua come sta continuando credo che sia lanciata anche perché cinque punti in un campionato dove lo ricordiamo si va di due punti in due punti sono due partite e mezzo e soprattutto senza pre-off senza pre-off esattamente quindi non è poco vediamo invece serie A peretta femminile quadro della prossima giornata anche in questo caso abbiamo una defezione esattamente non si gioca infatti la partita tra Iomi Salerno e AC Lifestyle Erice il programma è composto da Guerriere Malo contro Nuoro Alibes Espresso Mestrino Mechanic System Terzo remake della semifinale di Coppa Italia Cassano Magnaco Cassa Rurale Pontini e poi domenica il Brixen su Tirol proverà contro la Rioso Ferrara a smaltire le scorie dell'eliminazione prematura in Coppa Italia e qui a differenza della serie A betta maschile ci sono due elementi di diversità intanto ci sono i play-off e quindi tutto quello che si sta facendo in questa fase serve soprattutto a stabilire poi la griglia di partenza ma poi c'è grandissimo equilibrio in meta alla classifica indubbiamente con Salerno che ha un leggero margine di vantaggio nei confronti sia di Oderzo che di Bressanone ci metterà in mezzo anche Erice in realtà che comunque non è così tanto staccata come si può pensare ricordiamo che poi bisognerà recuperare Oderzo Salerno in campionato un partito non disputato sempre per gli stessi motivi prima della Coppa Italia e invece la classifica si è un po' spaccata nella lotta per il quarto posto perché Erice ha creato un margine importante rispetto alle inseguitrici Bene questo è il quadro completo ovviamente tutte le partite visibili nel fine settimana sulla piattaforma Eleven Sport ma non solo perché ci sono anche altre visioni consigliate dalla FIGH C'è ormai chiamiamola solita speriamo che sarà sempre solita partita a settimana di Champions League su Sky Sport Arena mercoledì prossimo alle 20.45 quindi siamo in prima serata gli sloveni del Selye affrontano il Barcellona che è la grande favorita per la vittoria della Champions Bene in questo momento considerando un po' come vanno le cose nel calcio lì nella polisportiva catalana probabilmente molte attenzioni saranno riversate la palla a mano bene è un aspicio speriamo che possa succedere altrettanto anche in Italia in un futuro prossimo grazie a Matteo Aldamonte Sabina Alessio in redazione noi ci troviamo giovedì prossimo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti